Eccoci in compagnia del sovrintendente direttore artistico del Teatro Verdi, dottor Claudio Razzi, buongiorno dottor Razzi, bentornato, era un po' che non ci incontravamo. Quest'oggi l'occasione è molto interessante perché parliamo di questa tournée che il Teatro Verdi intraprenderà fra pochi giorni nel Sultanato dell'Oman, su invito tra l'altro del Sultanato di Oman. È veramente un invito prestigioso, una tournée molto importante per il nostro teatro, inaugureremo infatti la stagione d'opera della Royal Hopper House di Mascat che negli ultimi due o tre anni da quando è stata costruita è diventato uno dei teatri di riferimento a livello internazionale per l'opera lirica innanzitutto e per la musica sinfonica. Si sono infatti alternate in questo nuovo e bellissimo e tecnologicamente avanzato teatro le più importanti orchestre del mondo e i più importanti teatri d'opera. Il fatto che ci arrivi Trieste è motivo di onore per la nostra città e per l'intera regione. Il Teatro Verdi non è nuovo a tournée all'estero, io ricordo quelle ancora in Giappone tempo fa, se non mi sbaglio addirittura con la Butterfly e più recentemente, sempre per quanto riguarda tournée di ampio respiro in Corea, se non mi sbaglio per un expo. E poi logicamente ci sono anche le collaborazioni con realtà più vicine come Lubiana, eccetera. Che cosa significa però per il prestigio di un teatro essere chiamato ed andare ad inaugurare una stagione altrove, diciamo così? Significa innanzitutto qualcosa di importante per Trieste e il Verdi dal punto di vista della politica interna, diciamo così, nazionale. Questo è un teatro che quando sono arrivato circa tre anni fa gravitava sull'orlo di un precipizio, con una credibilità vicina allo zero a livello nazionale, abbiamo fatto un grande lavoro, ho coordinato un grande lavoro di squadra dove ci sono stati molti protagonisti al mio fianco, a cominciare dal dottor Marchesi, ma naturalmente il sindaco della città, il presidente della regione e soprattutto tutti i lavoratori. Da quella situazione difficilissima, oggi andiamo a rappresentare l'Italia, l'opera lirica, il nostro grande patrimonio nel mondo. Volevo farle una domanda che forse un po' spinosa, per me porla più che altro, adesso vediamo se riesco a farla bene. un teatro in genere ha bisogno della forza che gli viene data dal pubblico, ha bisogno della forza che gli viene data dagli abbonati, è anche vero però che ci sono dei momenti, lei lo ha detto, nel nostro paese tutti i teatri sono in difficoltà, anche quelli più grandi che se non avessero dei contributi ad hoc probabilmente non starebbero certamente bene. Mi sembra di capire che esistono a Trieste, per quanto riguarda la lirica e anche per quanto riguarda la prosa, delle sacche di abbonati che non riescono ad afferrare in pieno la difficoltà della situazione. Il teatro ha fatto dei sacrifici, forse anche gli spettatori dovrebbero comprendere, almeno alcuni spettatori dovrebbero comprendere di più la situazione invece poi di lamentarsi su Facebook e sui social network. I social network sono uno strumento straordinario di democrazia, è bene che ci sia un confronto molto forte, è bene che ci si guardi anche allo specchio, la città, gli abbonati, i protagonisti, il pubblico si guardino allo specchio, questo è un teatro che oggi vive con circa 6 milioni e mezzo di risorse, 6 milioni di risorse in meno di Euro rispetto agli anni precedenti, quando lo dicono i bilanci sono state sperperate risorse e mi chiedo quelli che oggi scrivono su Facebook dove fossero, numero uno. Numero due, in quanto alla qualità delle produzioni artistiche nei limiti ristretti delle risorse che il teatro è a disposizione, credo che il rapporto qualità-costi sia molto elevato e sia a favore del teatro Verdi, quindi ben vengano le critiche, ben vengano il confronto, ben vengano i tempi come viviamo duri perché poi bisogna guardarsi in faccia. Oggi per esempio c'è uno strumento che il governo si è dato che è l'art bonus, per cui a tutti quelli che parlano e tutti quelli che amano il teatro c'è la possibilità di conferire un piccolo finanziamento, le risorse, noi riuniremo i nostri soci, fra l'altro fra qualche giorno, benemeriti i soci del teatro che partecipano, perché avremmo voluto già prima raccontare la storia dell'ultimo anno, dire come il piano industriale fosse stato conformato, dire come il piano industriale fosse stato per primo e in stadio avanzato e in riferimento per tutti gli altri teatri italiani varato dal commissario straordinario del governo e dire anche che però alla data odierna in cui parliamo ancora il di castero dell'economia preposto non ha erogato risorse perché viviamo in questa Italia. Dico sempre che si può fare di più e meglio, l'importante è non fare passi nel vuoto e essere sempre consapevoli che il teatro ha anche una forte, se non prevalente, funzione di carattere sociale e culturale, quindi abbonati vecchi che sono tanti e importanti, abbonati auspicabilmente nuovi, le porte sono aperte, i prezzi sono molto bassi, quelli del nostro teatro nel confronto con tutti gli altri, molti giovani, alcuni hanno storto il naso, dato che lei parla direttamente di qualche critica che possa avvenire, si vergognino, si vergognino coloro che storcono il naso se al loro fianco ci sia un giovane perché significerebbe… Sì, è clamoroso, è clamoroso. Ma questo sa, le cose sono così, si vergognano perché sarebbe come minimo vergognarsi di un nipote e il tempo passa per tutti e i teatri d'opera che sono il luogo del tempo sospeso, lì dove tu puoi più riflettere sul senso delle cose e della vita dovrebbero almeno insegnare questa medicina che se si sono avvicinati alla morte i teatri d'opera è esattamente perché si sono rinserrati, l'ho detto tante volte in questa sede ma lei mi fa una domanda provocatoria e io rispondo, si sono rinserrati in se stessi con il loro pubblico pervicacemente e in maniera oltransista hanno desiderato vedere sempre le stesse opere fatte nello stesso modo, magari con gli stessi cantanti confermando una prevalenza di se stessi sul fatto artistico, invece il fatto artistico evolve, evolve verso scenari che sono scenari internazionali e quindi c'è bisogno come dire da una parte di un po' più di umiltà e dall'altra di essere consapevoli che per gestire un teatro d'opera ci vogliono risorse molto molto importanti che in questo momento questa città, questo contesto regionale, questa Italia non hanno e ci sono dei momenti in cui bisogna essere tutti a remare dalla stessa parte, perché così come possono essere criticate le cose che ci sono a Trieste, quindi la critica è sempre positiva, invito tutti e ciascuno a visitare qualche teatro, altro teatro d'opera italiana, ma anche i soliti blasonati teatri all'estero per capire quanta differenza vi sia e mi creda non ce n'è molta, quindi guai secondo me parlare male di quello che si ha perché non si rischia niente a parlare male, invece io parlo in nome per conto di tanti lavoratori e di una grande industria dello spettacolo che naturalmente meritano di essere rispettati e loro stessi devono come fanno ogni giorno rispettare il pubblico e prestare un servizio come è stato riconosciuto da tutta la stampa nazionale che è cresciuto senza atto per qualità. Grazie allora al sovrintendente e direttore artistico del Teatro Verdi Claudio Razzi, buon lavoro. Grazie. Grazie.